Buongiorno 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 Il suo lavoro, ha avuto un bucchio, un pozzo, 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 un pozzo. No, 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 no. Ora non poterò che non poterò, ma non poterò che non poterò. Sì! Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. 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 a tutti. 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 a tutti. a tutti. 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 . tutti. 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 . tutti. . tutti. 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 . . tutti. 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 . . . , tutti. ... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.